Filippo Busin, forse è il dato più preoccupante che l'Istat ha rivelato negli ultimi mesi, ovvero che la povertà nel nostro paese continua ad aumentare? Sì, è raddoppiata negli ultimi 5 anni, siamo ormai a 5 milioni di poveri, oltre al calo dei consumi ormai evidente, il 65% consuma meno delle famiglie o consuma prodotti a prezzi più bassi, ed è un ennesimo segnale della grave situazione in cui si versa il nostro paese, che si aggiunge alle 45 mila aziende che chiudono e a tutte le notizie di disperazione che ci vengono date ogni giorno. Nonostante questo, oppure in aggiunta a questo, importiamo anche la povertà dal terzo mondo, perché ormai le coste di Lampedusa sono praticamente invase da questi barconi della finta speranza, alimentata forse anche, anzi senz'altro, dalla mancanza di una politica per gestire questi flussi da parte del nostro governo, anzi da un atteggiamento lassista, buonista, che non fa altro che peggiorare la situazione. Una situazione che il governo Letta pare non riesca a risolvere, almeno fino a questo momento. Ma a noi abbiamo l'impressione che non voglia neanche affrontarla, la questione se non con i proclami che fanno solo bene per le chiacchiere, ma che poi non intervengono sulla gestione del problema. Ci sono dei proclami di alti principi, come l'accoglienza, l'umanità, ma a questi non si unisce niente che serva a gestire in modo concreto il problema nel nostro paese.